Una folla oceanica degna del concerto di una rock star internazionale. Non si tratta dello Springsteen di turno, ma di Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, che, reduce dai successi elettorali, ha voluto festeggiare in piazza Pomigliano d'Arco con la sua gente. Pomigliano è la città di Di Maio, dove, tra l'altro, è iniziato il suo percorso politico, come lui stesso racconta. «Tutti mi diridevano perché prendevamo il 3% e io una cinquantina di voti. Per me quella era una vittoria», ha detto dal palco. «Combattevo per cacciare via dal Parlamento che aveva 30 cariche o ci stava da 30 anni. Non ci hanno ascoltati e li abbiamo cacciati noi. La mia vittoria va a tutte le persone morte di tumore a causa della peggiore politica che hanno subito in questo territorio, ha aggiunto rivolgendosi alla piazza con qualche migliaio di attivisti, cittadini e sostenitori. Nell'occasione Di Maio ha anche presentato i parlamentari campani eletti, ben 61. Il nostro obiettivo è essere il gruppo parlamentare della maggioranza e faremo tutti i passaggi istituzionali per arrivare al governo del Paese». «Voi siete persone che rivendicano diritti che sono nella nostra Costituzione della Repubblica». Grazie. Grazie.